L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Rapporto DIA sul primo semestre 2021. L'andranghete è silente ma salda. La pandemia l'ha persino aiutata. Affari, affari. Nove condanne rideterminate, altre tre confermate. Sette invece le assoluzioni, una prescrizione e la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro. Ultima giornata per la 54esima edizione di Vinitaly. Il punto con il direttore generale del Dipartimento Giacomo Giovinanzo. Nicola Fiorita apre la campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno a Catanzaro. Vogliamo vincere per cambiare registro. La Guardia di Finanza, con l'ausilio delle unità cinofili, ha sequestrato 7 kg di cocaina agli imbarcaderi di Messina e ha arrestato per traffico di droga due persone. Lei calabrese, lui straniero. Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Dunque, il rapporto della DIA. Sapete, ogni sei mesi la Direzione Investigativa Antimafia fa il punto sui numeri essenzialmente prodotti ai noi dalla criminalità organizzata e quindi anche dall'andrangheta. E che cosa apprendiamo grazie a questa riflessione che si è tenuta stamattina a Catanzaro? Che la mafia è silente, sì è vero insomma, però è molto molto salda e soprattutto nel corso di questi due anni di pandemia ha fatto ancora più affari. Si svolta a Catanzaro la conferenza stampa per presentare la relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel corso del primo semestre dello scorso anno. Il direttore della sezione operativa della DIA, Beniamino Fazio. Durante la pandemia l'andrangheta si è mossa sempre più in maniera silente e in buona sostanza ha mantenuto salda la propria posizione nel territorio e quindi ha mantenuto anche dei rapporti con il tessuto economico e sociale tale da esprimersi sempre più come un'organizzazione criminale a vocazione affaristico-imprenditoriale. Sicuramente le novità sono, oltre alla DIA a occuparsi di indagini di polizia giudiziaria, si occupa anche delle misure di prevenzione che rappresenta nel nostro ordinamento un vero unicum il codice antimafia del 2011. Consenta a noi di sopprare parimoni non soltanto a coloro che appartengono all'andrangheta ma anche a coloro che sono vicini e non necessariamente le fanno parte. E quindi ci consente di sopprare a loro il parimonio delle criminalità organizzate. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre fermati per l'omicidio dell'imprenditore agricolo Agostino Ascona scomparso lo scorso 27 dicembre quando sarebbe caduto in un tranello ordito dalla moglie Ilaria Asturiale insieme all'amante Salvatore Figliuzzi che è ritenuto esponente della cosca Bellocco di Rosarno. Fra l'altro questo Figliuzzi è marito della testimone di giustizia Maria Concetta Cacciola morta nel 2011 per avere ingerito acido muriatico. Sturiale Figliuzzi avrebbero organizzato il sequestro, l'omicidio e la soppressione del cadavere di Agostino Ascona è un delitto nel quale avrebbe avuto un ruolo anche un terzo soggetto Giuseppe Trapasso. Anche Trapasso non ha risposto alle domande del Gip di Palmi che nelle prossime ore dovrà decidere se convalidare l'arresto e se trasmettere per competenza il fascicolo al giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria che è competente per i reati di mafia. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri Ascone sarebbe stato attirato in un tranello nei pressi del ristorante la cucciarda di Taurianova. Grazie alle telecamere del ristorante e al sistema GPS della sua automobile gli investigatori hanno ricostruito gli ultimi momenti di vita di Ascone. Un'altra inchiesta, quella che riguarda in particolare, ha riguardato insomma la misericordia che come sapete ha gestito per un po' di tempo il CARA, il centro per i richiedenti asilo di Isola Caporizzuto e là dentro poi è finita anche la criminalità organizzata. Insomma per farla breve ricorderete è stato arrestato e condannato anche l'allora parroco di Isola Caporizzuto Don Edoardo Scordio. Ebbene adesso in secondo grado la sua pena è stata ridotta. È stata ridotta ad otto anni ed otto mesi la condanna per Don Edoardo Scordio, il parroco di Isola Caporizzuto arrestato nel maggio del 2017 nell'ambito dell'operazione Gionni grazie alla quale la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha portato alla luce le ingerenze della Cosca Arena nella gestione del centro di accoglienza per migranti e nell'economia del territorio di Isola Caporizzuto. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Catanzaro presieduta dal giudice Fabrizio Cosentino. Al parroco accusato di associazione mafiosa è stata ridotta la condanna di primo grado per via della prescrizione dei reati di malversazione nei confronti dello Stato contestati per aver distratto i fondi ricevuti per la gestione del CARA a favore della Cosca Arena. La Corte di Appello ha rivisto in parte la sentenza di primo grado nella quale nel giugno del 2020 erano state emesse 21 condanne e 17 assoluzioni. Ridotta ad 11 anni la condanna di Antonio Manfredi. Assolti dall'accusa di associazione mafiosa Domenico Poerio e Luigi Gareri, condanna ridotta a 7 anni e 9 mesi per Salvatore Colacchio e 2 anni e 2 mesi a Nicolino Raso. Assolti Pasquale Attianese, Francesco Cantore, Tommaso Mercurio, Antonio Saporito e Giuseppe Tipaldi. Pena ridotta a 2 anni per Maria Lanatà per la prescrizione dei reati e non luogo a procedere per Salvatore Pizzimenti. Cambiamo argomento. I malati oncologici del Pollino della Sibaritide che fanno riferimento all'ospedale di Castrovillari hanno la necessità di un reparto che funzioni 24 ore al giorno e non di un semplice ambulatorio. A dichiararlo Gina Santagata, presidente dell'associazione La Mongolfiera, nel corso di un sitino organizzato stamattina dall'associazione davanti proprio all'ospedale di Castrovillari. Doveva essere l'inizio di un percorso comune per cercare di capire la grande problematica dello smembramento dell'ospedale di Castrovillari, dal pronto soccorso ai reparti generale, dalle prenotazioni per visite specialistiche con date di appuntamento improponibili. Non ultimo si vocifera che dal momento che andranno via altri due operatori sanitari dal reparto di oncologia, pare si possa aggiungere ad una chiusura proprio del reparto. Ebbene, la salute interessa tutti forse sulla carta perché scarsa è stata la presenza di cittadini alla manifestazione organizzata dalle associazioni La Mongolfiera e non più soli che si occupano di pazienti oncologici proprio davanti all'ospedale della città del Pollino. Di contro tante telecamere, giornalisti e politici, allora c'è da chiedersi allo stato attuale delle cose, come viene vista la sanità pubblica dai cittadini castrovillaresi e non solo perché il nosocomio abbraccia un bacino di utenza abbastanza grande. Abbiamo un ospedale qui a Castrovillari che è veramente allo scatafascio, possiamo partire dal pronto soccorso per non parlare degli altri reparti che comunque c'è bisogno di personale. Io sono andata a fondo dei problemi quindi sono a conoscenza di tutto e già ho portato a chi di dovere. Inviterei soprattutto anche il nostro presidente di regione a fare una visita anche all'ospedale di Castrovillari. Perché se i fondi ci sono, no, se giustamente ognuno deve avere la propria parte non arriveranno mai a destinazione e quindi non è possibile poi spendere per quello che serve veramente. Al momento è scongiurare la chiusura del reparto di oncologia. Per esempio le cure ematologiche non si possono effettuare qui in oncologia anche se ci sono professionisti ematologici. Loro si devono recare a cosenza e per quale motivo se noi abbiamo una struttura che è valida con i professionisti. Eppure l'oncologia era un'unità operativa complessa. Cosa è successo? Quando si dice che non c'è programmazione hanno colto al balzo l'occasione del pensionamento del vecchio direttore e hanno soppresso l'unità operativa complessa. È diventata un'unità operativa semplice adesso all'interno del reparto di medicina. Se manca l'autonomia manca la possibilità dell'organizzazione. Le esigenze ci sono per tutte le ore del giorno e non è assolutamente corretto che finito questo un paziente oncologico debba fare la fila al triage che magari non è neppure in un codice con colori che richiedono priorità ed attendere delle ore disumano. Adesso invece ce ne andiamo a Verona, ultimo giorno della Vinitaly 54esima edizione. Grande interesse per le proposte calabresi. Allora facciamo il punto con il direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo, avvicinato per noi naturalmente da Massimo Carlozzo. Cala il sipario su Vinitaly 2022 e in questi giorni la nostra regione si è raccontata come regione straordinaria. Giacomo Giovinazzo, direttore generale del Dipartimento Agricoltura, ci dice come è andato. Beh innanzitutto Vinitaly è importante, noi abbiamo 100 aziende anche complessivamente con l'olio, quindi l'olio e il food, quindi una rappresentazione a Verona alla fiera Vinitaly e Sol. È importante dire che l'agroalimentare calabrese, di cui il vino rappresenta l'alfiere, diciamo culturale di questo aspetto, è riuscito a dare un'immagine molto importante della nostra regione. Un'immagine collegata, se vogliamo, anche ai grandi beni architettonici e culturali che la regione ha, all'ambiente, alle produzioni di qualità, frutto di una biodiversità enologica che non trova riscontro in altre regioni del sud. Quindi siamo soddisfatti. Ovviamente questo non è che l'inizio di un ulteriore percorso in cui abbiamo individuato un claim che è Calabria straordinario. Questo claim va portato avanti, va fatto conoscere, va fatto affermare e questo è il mandato che abbiamo ricevuto dal Presidente Occhiuto e dall'assessore Gallo. Torniamo in Calabria, ce ne andiamo a Reggio perché c'è stato un dibattito in Consiglio regionale molto articolato sulla proposta di legge di riorganizzazione dei servizi pubblici locali per l'ambiente. Una seduta aperta dal Presidente dell'Assemblea, Filippo Mancuso, che ha rivolto un bentornato anche ai colleghi giornalisti che sono stati riammessi in aula dopo l'emergenza Covid. Prima della discussione di merito, il capogruppo PD Nicola Irto ha chiesto la parola per stigmatizzare la scelta di svolgere la riunione del coordinamento dei Presidenti delle Commissioni sulle politiche europee nella sede della Giunta alla Cittadella regionale a Catanzaro e non a Reggio Calabria nella sede istituzionale naturale, appunto quella del Consiglio. Una scelta grave, ha detto, perché quella riunione rappresentava un momento importante per la programmazione della spesa dei fondi europei e dei fondi inseriti nel PNRR e poteva essere un utile momento di confronto con tutti i consiglieri regionali. In ogni caso si conferma anche in questo caso l'atteggiamento assunto nei confronti del Consiglio fin dall'avvio della legislatura. Palazzo Campanella non può essere assostenuto ancora Irto, un luogo di semplice passacarte di decisioni assunte alla cittadella e i consiglieri sono stati privati del loro ruolo di controllo e anche di proposta. A proposito invece di Catanzaro, lì come sapete a giugno si vota per trovare il nuovo sindaco del capoluogo regionale, Nicola Fiorita, il candidato del centrosinistra, di fatto ufficialmente ha aperto la sua campagna elettorale. Nicola Fiorita ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni a sindaco di Catanzaro del prossimo 12 di giugno chiamando raccolta tantissima gente nel teatro comunale, nel cuore del centro storico su Corso Mazzini. In molti hanno risposto all'invito, sono venuti ad ascoltare l'aspirante successore di Sergio Abramo presentato e sporadicamente interrotto dagli intermezzi all'insegna dell'umorismo dell'attore comico Enzo Collacino, simpatizzante dello stesso prof prestato alla politica e del suo movimento civico cambiamento fin dal momento della Costituzione. Partiamo con uno spirito molto positivo, con una grande felicità perché io credo che la campagna elettorale sia una festa, io ho la fortuna e la possibilità di dare un contributo alla città, tutte le persone che si candidano lo vogliono dare, credo che questi due mesi siano importanti per Catanzaro, sarà molto più importante la nostra vittoria perché aprirà una nuova pagina nel governo della città. La coalizione che sosterrà Fiorita è quella del centrosinistra che da pochi giorni ha ufficializzato anche l'accordo con il Movimento 5 Stelle. Uno schieramento che vuole provare a vincere a tutti i costi le elezioni senza prospettarsi il problema del governare, è un grande inganno verso la città, la città ha riconosciuto questo inganno cinque anni fa e lo sta riconoscendo anche adesso. Fiorita ci riprova dopo cinque anni passati sui banchi della minoranza. È stato fatto un percorso all'opposizione molto importante che ci ha dato anche molta più consapevolezza che ci porta a una maturità diversa, ma è stato fatto un percorso anche per costruire una coalizione con movimenti civici, con partiti di governo, un percorso fatto dal basso che forse ha avuto anche qualche intoppo e qualche difficoltà, però insomma è una frase fatta ma è efficace, da soli si va molto più veloci, insieme si va molto più lontano. E il leitmotiv di Fiorita è comunque sempre rivolto al rinnovo. E invece a Crotone scopriamo ancora una volta i cosetti furbetti del reddito di cittadinanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno individuato in questi primi mesi del 2022 ed anche grazie all'ausilio fornito dai locali uffici dell'Inps 102 soggetti stranieri ritenuti responsabili di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di circa 500.000 euro. La normativa vigente prevede che affinché il cittadino straniero possa beneficiare del suddetto contributo pubblico debba essere residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della richiesta, dei quali almeno gli ultimi due anni in maniera continuativa. Proprio alla verifica di tali requisiti i finanzieri hanno accertato l'utilizzo di false attestazioni nelle dichiarazioni sostitutive uniche da parte di 102 soggetti di nazionalità extracomunitaria. Gli stessi infatti, pur non avendo maturato il periodo di residenza richiesto dalla norma, hanno comunicato all'interrogatore di esserne comunque in possesso. Emblematiche in tal senso sono risultate le posizioni di alcuni cittadini extracomunitari che hanno percepito il sussidio pubblico nonostante fossero residenti in Italia da appena pochi mesi. In un caso è stata conseguita la residenza nell'ottobre del 2020 e la richiesta è stata effettuata nel marzo del 2021. In un altro è stato anche accertato che un cittadino extracomunitario, nonostante fosse stato già denunciato per analoghi fatti in altra zona d'Italia, ha ripresentato questa volta nella provincia di Crotone appunto la richiesta per ottenere il beneficio in parola. Oltre ad essere denunciati alla locale procura della Repubblica, i percettori del sussidio sono stati segnalati all'Inps per la revoca o sospensione del contributo e per il recupero delle somme già erogate nonché per il blocco dei contributi richiesti ma non ancora erogati. Adesso parliamo di altri furbi, sono due in realtà, perché la Guardia di Finanza con l'ausilio di due cani, unità cinofile, ha sequestrato 7 kg di cocaina agli imbarcaderi di Messina, arrestando per traffico di droga due persone, uno straniero e una calabrese. Guardate un po' queste immagini, grazie al fiuto di Gimli e di Aidi, durante il controllo di quest'auto appena sbarcata dalla costa calabra, le fiamme gialle hanno scoperto 6 panetti di cocaina, come vedete, trasportati in questo doppio fondo ricavato nel vano portaoggetti del mezzo. L'uomo è stato portato in carcere, la donna invece ai domiciliari. Questo quantitativo di droga avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio della provincia quasi 2 milioni di euro. E sempre a proposito di soldi, ci sono gli assessori al bilancio di città importanti, tra queste anche la città metropolitana e la regionale, sono un po' preoccupati perché non riescono a chiuderlo il bilancio comunale e questo significherebbe naturalmente una riduzione di servizi, la raccolta dei rifiuti, giusto per dirne una, oppure manutenere le strade, raccogliere le acque, reflu, insomma tutti i servizi che sono previsti in questo caso, per cui si rivolgono evidentemente al governo nazionale. Gli assessori al bilancio delle grandi città lanciano l'allarme e chiedono al governo risposte urgenti nel prossimo decreto emergenze, perché senza un intervento normativo molti bilanci di comuni di ogni dimensione rischiano di andare in squilibri. È quanto emerso durante la riunione degli assessori che hanno fatto il punto sui problemi principali dei bilanci comunali. Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Firenze e Genova chiedono per prima cosa l'integrazione dei fondi a sostegno del caro Bollette, per almeno il doppio di quanto già stanziato, cifra già ad oggi del tutto insufficiente. Gli assessori inoltre sono preoccupati per l'impatto sulla spesa corrente dei costi per l'accoglienza dei profughi ucraini, su cui il governo ha stanziato 428 milioni, di cui però nemmeno un euro è arrivato ai comuni. Sostegno viene chiesto anche per avere una maggiore flessibilità per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per far fronte alla coda dell'emergenza Covid e al caro Bollette. Infine, chiedendo subito l'avvio del processo di ristrutturazione del debito che i comuni attendono da quasi tre anni e che dovrebbe portare benefici anche sui bilanci 2022-2024, gli assessori delle grandi città auspicano anche per quest'anno il mantenimento del clima di fiducia tra comuni e governo. Questo clima, ribadiscono, ha reso possibile affrontare efficacemente la pandemia e deve essere preservato di fronte a emergenze di grande portata attraverso lo stanziamento immediato di almeno 400 milioni di euro. E' l'introduzione di ampie flessibilità nelle regole contabili. Bisognerebbe arrivare a collegare in appena tre ore Reggio Calabria-Roma, Roma-Reggio Calabria. Questo è un po' il concetto, la visione. Per far questo c'è bisogno di alta velocità, per l'alta velocità c'è bisogno di tanti soldi, ma questi soldi ci sono. Il Touring Club a Cadanzaro ha organizzato un convegno, si è parlato di questo, c'è stato anche l'ex assessore alla mobilità dell'Aggiunto Oliverio Russo, il quale non è molto ottimista. Il club di territorio di Catanzaro del Touring Club italiano, unitamente a tutti gli altri club di territorio calabresi, ha già espresso lo scorso anno le proprie preoccupazioni per ciò che attiene il collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria ad alta velocità. Così, per provare a dare una scossa ad un tema, le cui ricadute sociali ed economiche sono enormi, la sezione catanzarese del Touring Club ha promosso, con la partecipazione della Camera di Commercio di Catanzaro, un incontro ad hoc alla presenza di Francesco Russo, docente di Ingegneria dei Trasporti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e già assessore regionale dell'Aggiunta Oliverio. Io credo che ci sia un ritardo formidabile, sia nelle infrastrutture di trasporto ferroviarie, quindi terrestri, sia nei porti, sia nelle autostrade, nelle metropolitane. Credo che PNRR sia prossimo alla zero per quanto riguarda Calabria su queste infrastrutture, a meno di finanziare cose già finanziate come la banchina Ovest del porto di Getaura. Non mi esprimo sulle altre parti del PNRR che voglio sperare che siano importanti per la Calabria, per il Mezzogiorno, per la Sicilia. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, sembrano veramente all'omicino e quindi non nutro speranze, non nutro speranze proprio sul PNRR. O c'è un impegno forte da parte della politica trasversalmente da Catanzaro a Reggio Calabria, a Cosenza, a Roma, oppure non si otterrà nulla. Il tema di fondo è quindi proprio la mancanza di interlocuzione politica sulla strategia per la definizione di una vera alta velocità che colleghi in tre ore a Spiegato Russo, Reggio Calabria, a Roma. O si fa una linea che in tre ore ma non guarda arriva a Villa San Giovanni, oppure tutte le città calabrese con il tracciato così come è disegnato in questo momento hanno un tempo in più che va da 15-20 minuti in più per Cosenza, circa 20-25 minuti in più per Catanzaro, circa 15 minuti per Crotone, circa 25 minuti in più per Vibo Valencia, circa mezz'ora, 35 minuti per Reggio Calabria. Questi sono i termini, per cui proviamo a capire e vediamo le carte, vediamo quello che succederà. Adesso invece nello stretto di Messina, perché Caronte Turist, dopo la sanzione di circa 4 milioni irrogata dall'antitrust, deve ora rimborsare i consumatori, lo sostiene l'Unione Nazionale Consumatori, che è intervenuto appunto nel processo innanzi all'autority. Abbiamo intimato a Caronte di aprire un tavolo di conciliazione per la quantificazione e l'erogazione dei rimborsi agli utenti di questo servizio di traghettamento dello stretto, che in questi anni, come riporta appunto il provvedimento dell'antitrust, hanno pagato prezzi eccessivamente onerosi e ingiustificatamente gravosi e che quindi ora hanno diritto a essere indennizzati, dice Mario Intilisano, che è presidente dell'UNC di Messina. E adesso le previsioni del tempo con Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione presente sul nostro paese continuerà a garantire condizioni di stabilità con tempo soleggiato, ma anche con il frequente passaggio di velature. Infatti, osservando la mappa della nuvolosità, notiamo come su gran parte del nostro paese continueranno a transitare degli addensamenti di tipo medio-alto. Si tratterà di velature che offuscheranno spesso il cielo, soprattutto al centro-sud. Ma vediamo infatti il tempo previsto sull'Italia nel corso della giornata, che sarà comunque asciutto da nord a sud, qualche addensamento in più sulle regioni centro-meridionali e clima tipico primaverile, con punte massime fino a 22-23 gradi, qualche grado in meno invece lungo le coste. Ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. È tutto per questa edizione, grazie, vi lasciamo alla nostra prima serata, poi torniamo intorno alla mezzanotte. Buonasera.